Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Tragedia a Benevento Un giovane ragbista di 12 anni è morto dopo un malore in campo e una lunga agonia. Mauro, figlio di un commerciante della città campana, era crollato al suolo durante una partita all'Alfredo dell'Oste, in zona pacevecchia, il 9 ottobre. Nessun contatto con un avversario, il ragazzo aveva perso subito i sensi. Stabilizzato all'ospedale Sampio, viste le condizioni precarie, poche ore dopo era stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Mauro però, dopo quasi un mese di ricovero, non ce l'ha fatta. Il 5 novembre le sue condizioni sono peggiorate ed è morto. La notizia è stata rilasciata dalla famiglia del ragazzo sui loro canali social. Un'altra giovane vita che se ne va. Secondo voi non è ingiusto morire a questa età? Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Scrivete nei commenti cosa ne pensate.